Simone, ti sei tuffato con la scritta il coraggio, il coraggio di cambiare l'Italia. Qual è il significato di questo? Per migliorare le situazioni ambientali, sanitarie e economiche del nostro paese oggi c'è bisogno di coraggio. Bisogna uscire assolutamente fuori dalle logiche che vedono i politici legati agli udonitori. Bisogna per forza iniziare a far politica insieme ai cittadini. Ogni decisione prese dalla politica vanno condivise con i cittadini. Ok Simone, oggi tutti i castelli romani, ma tutti coloro che avevano l'ambiente erano con te. Un grazie veramente a tutti noi. Io ringrazio voi e tutte le persone che ci hanno seguito. Grazie.